Il tempo scorra all'1% della velocità reale. La caduta gli sarà sembrata interminabile. Se ce la giochiamo bene, potranno prendere tutta la fottuta città. 800 milioni di persone che vivono nelle rovine del vecchio mondo. L'unica cosa da fare è combattere per l'ordine e nel caos. L'uomini e le donne del Palazzo di Giustizia. Pitch Trees è la base di produzione di tutto lo slow-mo a Mega City One. Sai quante volte viene un giudice a Pitch Trees? Beh, adesso ne avete uno. Averrà il controllo di tutto. Dal livello 1 al 200. Sono mamma e in questo isolato ci sono due giudici. Non è un buon segno. Ne voglio a morti. È il momento di attaccarli. Sei pronta? Sì, signore. Non lo sembri affatto. Fuoco! È il momento del giudizio. Finiamo questa cosa. Mamma non è la legge. Io sono la legge. Le negoziazioni sono finite. La sua condanna è la morte. Non il nostro grimpe. Non lo sembri affatto. Ma prossima. Non legga. Non lo sembri affatto. Non importa.